Buongiorno, tutta questa roba mi serve per parlare dell'argomento che vi propongo in questo secondo incontro, della gelosia e dell'invidia. In genere noi riteniamo, o meglio parliamo come se fossero la stessa cosa, poi due sono gelosi, in realtà sono due parole diverse che indicano due relazioni diverse. Proviamo dalla gelosia, nella gelosia c'è la persona che ama, ecco questo alberello è quello che ama e c'è la persona amata, la facciamo bella rotonda, immaginiamo che questo sia un uomo e questa sia una donna, la sua amata, lui la ama, la ama in modo esclusivo, vuole che sia solo sua, però arriva una terza persona, eccola qua che arriva, eccola qua che arriva e o lui la seduce o lei si avvicina a lui, di fatto lui perde l'esclusività, gliela porta via, è un furto, è un furto complice se voi volete, quindi la gelosia si rivolge tanto verso la donna e geloso di questa donna, come è geloso del rivale, allora c'è chi ama, la persona amata e il rivale, la gelosia è fatta così, a tre pezzi. Mi lasciate parlare dell'invidia adesso? Allora dell'invidia invece ci sono apparentemente due pezzi, ecco guardate questo qui è la persona che invidia ad essere l'invidia, questo è un tale che riesce meglio di lui, ha più successo, lo ha sorpassato, è riuscito in politica, è riuscito in amore, ha fatto soldi, quel che voi volete, lui avrebbe voluto essere come l'altro, non ci riesce, vorrebbe abbassarlo, avrebbe svalutato e si mangia il fegato perché l'altro è riuscito e lui no, è l'invidia. L'invidia è veramente una sofferenza interna, in cui tu vorresti abbassare l'altro, togliagli e cosa fa l'invidioso in genere? Cerca di svalutarlo, ma no, ma quello lì non vale niente, in realtà sai, questa cosa che ha fatta non è bella, solo che a chi lo dice? A chi lo dice? Lo dice ecco il terzo protagonista anche qui, ma il terzo protagonista non è una persona, è una giuria, il popolo, lui lo dice a tutti, no? Dice vedi l'altro non vale, non ci credono e loro gli dicono sei invidioso e l'invidioso quindi non solo sta male, ma anche viene deriso perché è invidioso. Allora molta gente è invidiosa ma non lo dice, si mangia il fegato dell'invidia, cerca di danneggiare l'altro, in politica quanta invidia, cioè sapete? Spesso con l'ideologia si copre l'invidia, cerca di danneggiarlo ma sempre fingendo, senza farcene accorgere. Questi due sentimenti sono diffusi in tutto il mondo, ci sono in Italia, in Cina, nel Venezuela, nel Madagascar, sono sempre stati alla base delle nostre relazioni e non sono eliminabili, io credo che al massimo possiamo controllarli o cercare di scrollarceli, di scrollarceli addosso. Allora torniamo gelosi e invidi, anzi fermiamoci sulla gelosia, guardate, io vorrei parlarvi un attimo della gelosia nell'innamoramento, la gente che si innamora è gelosa o non è gelosa? In genere gli innamorati all'inizio non sono gelosi, davvero, è strano, non si conoscono ma non sono gelosi, ma anche per un'altra miracolosa proprietà, se l'innamoramento è vero però, se l'innamoramento è vero, vivono gli innamorati in uno stato che io chiamo stato nascente, uno stato sognante in cui tutto è bello e c'è in questo stato una proprietà, che quando l'altro racconta se stesso, quando l'altro si parla di sé, qualunque cosa lui sia, qualunque cosa lui faccia, a te piace, tu sei tutto in amore di una persona, sei piccola, ti piace perché è piccola, sei grande perché è grande, sei bionda perché è bionda, a lei ti piace se è bel buziente perché è bel buziente, quindi anche se questa persona ti racconta, in genere poi nell'innamoramento la gente vuole raccontarsi la sua vita, io voglio raccontare tutta la mia vita per farla partecipare alla mia amata, lei vuole raccontare la sua vita perché io entri dentro di lei, veda le cose come le ha vissute lei, quindi gli innamorati si raccontano anche le loro storie amorose passate, se le raccontano e nel momento stesso in cui io lo racconto a quello di cui mi sto innamorando, siamo nella fase nascente dell'amore e dell'innamoramento, perde valore, non me ne importa più niente, è il momento in cui proprio il passato svanisce e chi ascolta, l'amato che ascolta anche per lui non ha valore, è una cosa finita, è il mondo che ricomincia, voi capite, tutto è finito e tutto ricomincia, tutto rinasce, è come se fosse l'apocalisse e comparisse un nuovo mondo, quindi quando gli innamorati veramente innamorati, nel momento in cui sono innamorati si raccontano le loro storie amorose dicendo sì anch'io ho amato, ho stato col tale, col tal'altro, poi è finito, ma è finito, hanno il senso del finito e quindi non resta nessuna gelosia, però poi capita anche nell'innamoramento o nell'amore che appaia la gelosia, la gelosia del passato, delle cose vecchie, quando? Perché se due innamorati raccontandosi non sono gelosi, non gli interessa il passato né a sé né all'altro, poi invece certe volte ci tornano indietro, ci ripensano, si torturano del passato dell'altra persona, io ricordo Gasman, una volta mi raccontava e mi diceva Vittorio Gasman, la cosa più spaventosa è la gelosia del passato, ma quando avviene la gelosia del passato, sapete quanto avviene? Avviene quando il racconto non è in simultanea, quando non viene fatto in quel momento di straordinario che è lo Stato nascente, in cui in fondo tutti si perdonano tutto, sapete c'è un bellissimo racconto di Chekhov, la signora col cagnolino, in cui ci sono gli innamorati e a un certo punto l'autore Chekhov dice, quando vanno a Mosca, era il periodo in cui si perdonavano qualsiasi cosa, però se invece non avviene in quel momento, allora tutto è diverso, per esempio se lui o lei si conoscono prima, lei gli ha già raccontato la sua vita prima, gli ha raccontato anche nei dettagli di sue storie amorose, così magari scherzando come amica o per gioco e poi dopo lui si innamora, allora quel racconto gli viene in mente dopo, non l'ha distrutto nella fase amorosa, capisce? Quindi si può magari portare dietro per degli anni e se lo rimprovero, oppure capita che se invece non lo dici in quel momento, è molto importante raccontarci le cose nell'innamoramento, se tu in quel momento non lo dici, ti dispiace, non dici la verità, lasci passare e il tuo amato o la tua amata, lo viene a sapere un anno dopo o due anni dopo, diventa geloso, diventa geloso perché non è stato fatto nel momento incandescente, non nel periodo in cui si perdonavano tutto, doveva dire, quindi il mio suggerimento è questo, se avete la fortuna di innamorarvi nel momento in cui siete veramente nello stato decente dell'amore, raccontatevi tutto con prudenza, con gago, ma tutto, perché prima o dopo non è più la stessa cosa.